L'Italia è nata in un lago di sangue. Al sud sono stati uccisi, secondo i vari calcoli, da 100-140 mila persone a alcune centinaia di migliaia. Civiltà cattolica, la rivista dei Gesuiti che faceva il conto con i libri dei morti, delle parrocchie, dice che fra fucilati, morti per epidemie scatenate, anche apposta, cioè chiudevano gli acquedotti, isolavano il paese, li lasciavano morire. Un milione di persone, non credo al milione di persone, ma centinaia di migliaia di meridionali sono stati uccisi in maniera immonda. A Ponte Landolfo e Casalduni, quello che ricordava prima il professor Acquaviva, questi 40 bersaglieri, fino a che non vennero uccisi, facevano la spesa, fra virgolette, nelle masserie intorno, nel senso che entravano nella masseria, ammazzavano gli uomini, violentavano le donne, rubavano tutto e poi davano fuoco. Per cui quando se li videro in paese, non gli parve vero e a forconate li fecero fuori. Arrivarono mille bersaglieri, guidati da Pier Eleonoro Negri, colonnello di Vicenza. Cinquecento si dedicarono a Ponte Landolfo, cinquecento a Casalduni. Da Casalduni riuscirono a fuggire molti in tempo, da Ponte Landolfo no, entravano nelle case di notte, la gente dormiva, nuda, seminuda, li tiravano fuori alla baionetta, li mandriavano per le strade, li menavano in piazza, dove c'erano quelli schierati prima fila in ginocchio, secondo in piedi, a sparare nel mucchio. I sopravvissuti vennero chiusi nelle case, ammassarono legna e fascine davanti alle porte e alle finestre e dettero fuoco, li bruciarono vivi. Maria Izzo forse era la più bella del paese, perché non si spiega come mai le abbiano dedicato un'attenzione speciale. La legarono nuda a un albero in piazza, a gambe aperte, e la violentarono finché non svenne, e il bersagliere che si vide privato del suo turno la squartò con la baionetta. Concetta Biondi aveva sedici anni, si avventarono in dieci su di lei, e quando morì di stupri, finalmente uccisero suo padre, che avevano legato a un palo perché assistesse. Giuseppe Santopietro cercò di portare in salvo il figlio neonato, glielo strapparono dalle mani e lo squartarono, e poi uccisero lui. Si parla di 400 morti solo a Ponte Landolfo, altri conteggi arrivano a più di mille. L'unica certezza è che Giuseppe Ferrari, deputato e filosofo milanese, sceso a vedere cosa fosse successo, ne fu sconvolto a vita. Ponte Landolfo aveva 5.000 abitanti, Casalduni 3.000, lui vide una colonna di 3.500 profughi. Tornò in Parlamento e urlò, se non riesco a smuovere le vostre coscienze con tutto questo sangue, non so cos'altro fare. La risposta fu la legge Pica, una legge che consentiva di imprigionare o fucilare sul posto per mano di chiunque, militare, sindaco, guardia nazionale, cioè i meridionali, se anche soltanto non fossero sembrati a chi eseguiva la sentenza entusiasti di Savoia. Bastava questo per essere uccisi. Grazie. 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 Grazie.